Sono sette le persone arrestate dalla polizia nelle ultime ore nel corso ad un'operazione antimafia a Roma. Devono rispondere di omicidio, traffico di sostanze stupefacenti, sequestro di persone, incendio doloso, lesioni e detenzione legale di arma da fuoco, aggravati dal metodo mafioso. Quattro le persone che appartengono a un gruppo criminale romano con contatti internazionali. Altre tre sono finite in manette dopo essere rimaste coinvolte in operazione antidroga da agenti sotto copertura. L'indagine è scattata nello scorso anno dopo gravi fatti di sangue avvenuti nella capitale e in provincia. I quattro fermi e tre arresti di stamane, eseguiti dalla sezione criminalità organizzata della Mobile e della Questura di Roma, si riferiscono a una serie di fatti di sangue, un omicidio e alcune gambizzazioni avvenute nella capitale a febbraio 2023, tra cui quella ad un ragazzo di 27 anni, Alessandro Corelli, avvenuta a Morena, e dell'amico Simone Daranghi, 21 anni. Nel 2023 la capitale venne insanguinata in poco più di cinque mesi da 14 omicidi, tra cui quello del 51enne Luigi Finizio, avvenuto al Quadraro, e quello d'Andrea Fiore, carrozziere ucciso sempre al Tuscolano.